Le regole principali di questo sport, il Death Fight Championship, le similitudini anche con altri sport di lotta e anche le differenze? Le regole sono essenzialmente le regole dell'MMA. La differenza principale è che qui è stata data molto risalto al discorso della spettacolarità. Quindi hanno cercato con le regole di abbattere i tempi cosiddetti morti, che magari per gli addetti ai lavori sono comunque tempi in cui sembra che ci siano pause a terra, ma in realtà gli atleti combattono. Però per il grosso pubblico potrebbero risultare più noiosi. Quindi sono stati tolte tutte le fasi più statiche. Nell'azione, se si va a terra o se si va a parete, al contrario dell'MMA, dopo pochi secondi, se non c'è un'azione efficace, effettiva, l'arbitro blocca i due combattenti e li riporta alla posizione centrale per ricominciare. Quindi a terra è semplicemente l'unica azione che si possono fare, portando a terra l'avversario, comunque andare subito a colpire di striking o provare una finalizzazione. Non ci sono tempi morti.